Lo picchiavano, calci, pugni in testa, altri buttafuori impedivano a noi di aiutarlo. Hanno dichiarato la morte cerebrale che non ci fosse più nulla da fare. Niente ce lo può portare indietro, però perlomeno un po' di giustizia per lui. Odiava la violenza e se si è trovato in mezzo a prendere così tante botte è stato solo per difendere la sua famiglia perché per lui la famiglia era tutto. Il fratello di Omar guardava questa lite dietro al nostro tavolo con cui noi non c'entravamo nulla, non conoscevamo nessuna di quelle persone. Un ragazzo di quel tavolo gli ha detto cosa guardi in malo modo e gli ha tirato uno schiaffo. Ha reagito con un pugno ed è tornato immediatamente al nostro tavolo perché eravamo lì per festeggiare un compleanno e non volevamo discussioni. Sono intervenuti i buttafuori per la lite dietro al nostro tavolo, però in realtà non si è capito il perché ma hanno tirato due pugni. Invece di intervenire subito per picchiare, per difendere, abbiamo aspettato il nostro cugino. È andato a chiamare aiuto a un buttafuori, però il buttafuori non l'ha neanche ascoltato, ha cominciato a picchiarlo anche a lui. E lì Omar si è sentito costretto a intervenire. Ha tirato un pugno a questo buttafuori, ma per placarlo, cioè non è che voleva cominciare una lite, voleva farlo smettere di picchiare. Il buttafuori è caduto a terra e ne sono arrivati cinque che l'hanno preso e hanno cominciato a massacrarlo di botte. Lo picchiavano, calci, pugni, in testa, altri buttafuori impedivano a noi di aiutarlo. La serata è finita che nostro zio, il papà di Omar, è venuto a prenderci. Ci ha portati subito all'ospedale Sacco perché comunque il fratello di Omar aveva il naso aperto. Omar aveva percosse evidenti su tutto il corpo, solo che poi al sacco c'era troppa attesa. Siamo tornati a casa, però Omar ha avuto mal di testa e vertigini i due giorni seguenti, quindi mia zia decide di portarlo a Garbagnate, dove gli fanno un attack senza contrasto che non evidenzia nulla di particolare. E quindi lui va a casa sereno, nel senso che gli hanno detto comunque che se prendeva una medicina e passava, voleva dire che era tutto a posto, se invece persisteva di tornare in ospedale. Lui comunque in quei giorni ha avuto mal di testa, però prendendo l'oro gli passava, quindi non si è preoccupato, è partito per la Calabria. Si è sentito male, appena uscito dalla doccia ha avuto dolori alla testa e al braccio ed è caduto per terra. Hanno chiamato l'ambulanza che ha constatato che era in coma, l'hanno intubato, l'hanno portato all'ospedale del paesino, ma non era attrezzato per l'intervento, quindi hanno chiamato l'elisoccorso, l'hanno portato a Reggio Calabria, dove con un attack con contrasto hanno appurato che avesse un'emorragia cerebrale importante e hanno dichiarato la morte cerebrale, che non ci fosse più nulla da fare. Dopo l'eccesso abbiamo sporto denuncia alla probabile negligenza dell'ospedale, al pestaggio di quella sera. Noi abbiamo la sicurezza, nonostante non sia ancora arrivato il referto dell'autopsia, che sia stata colpa delle botte che ha preso, perché lui era un ragazzo sano, aveva 23 anni, era sano, non aveva mai avuto problemi. Dopo che ha avuto il mal di testa e si è accasciato per terra, non ha sbattuto la testa perché mio zio era già lì a tenerlo, quindi lui non ha riportato altre botte. Andremo avanti finché non si arriverà la verità. Omar era un ragazzo di una bontà infinita, sensibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Tu chiamavi e sapevi che lui c'era. Da quel ragazzo che se vedeva una signora con le busse della spesa, prendeva subito i sacchetti e gli diceva la porto su io. Lavorava con sua mamma in un bar di una scuola. Lui a 23 anni prendeva lo stipendio e lo consegnava a sua mamma. perché abitava lì. Omar come ultimo grande gesto di generosità ha salvato 11 vite grazie all'espianto di organi. Niente ce lo può portare indietro, però perlomeno un po' di giustizia per lui. Perché perdere la vita così a 23 anni è assurdo. Grazie. 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 Grazie.